salve a tutti e bentornati su soluzioni pc oggi parleremo dei gruppi famiglia su google questo è un video della serie che va a esplorare quali sono i servizi google e a che cosa servono google ha tanti servizi decine e decine e la maggior parte della gente non conosce quali sono quindi volevo portare questa serie che puntava a informare le persone per l'utilizzo di questi servizi che alcuni sono particolarmente interessanti ma veramente poco pubblicizzati da google torniamo a noi e andiamo a vedere subito come funzionano i gruppi famiglia e a che cosa servono il gruppo famiglia in google è sostanzialmente un aggregato di più account email teoricamente uno a membro della famiglia e serve principalmente a tre cose una è quella di condividere eventi note documenti tra gli account all'interno della famiglia il secondo è quello di condividere gli acquisti di libri app film fatti sul google play store e questa è una cosa molto interessante perché in teoria nel gruppo famiglia non è necessario che ci sia un tuo parente può esserci anche un tuo amico e il terzo motivo che trovo che sia quello forse più utile di tutti è quello di creare la base per il parental control di google che si chiama family link a cui farò un video dedicato se il video è già uscito potrete vederlo qui in alto sulle schede se no continuate a seguirmi e per ultima cosa permette qualche altra cosa molto banale come condividere informazioni con l'assistente google comunicare in modo più semplice ma cose veramente marginali detto questo andiamo a vedere come creare un gruppo famiglia in modo semplice e veloce apriamo la schermata di google sui puntini delle app google andiamo a cercare account io sono qui con il mio account di soluzioni pc e all'interno di questa schermata andiamo su persone e condivisione la prima delle delle voci è proprio quella del gruppo famiglia ci chiede di creare un gruppo famiglia se vogliamo con un massimo di sei persone inclusi noi che saremo i gestori del gruppo famiglia dobbiamo semplicemente premere su inizia e verremo portati a questa che è la pagina principale in cui ci descrive come vi ho detto prima tutte le peculiarità di avere un gruppo famiglia come vi stavo dicendo impostare le regole base digitali per minori secondo me è la cosa più interessante oltre a quella di condividere gli acquisti con amici o parenti detto questo proviamo a crearlo clicchiamo su crea gruppo famiglia naturalmente io sarò il gestore del gruppo famiglia quindi questa cosa va fatta questa procedura va fatta con l'account che volete che sia il gestore del gruppo famiglia io vado avanti eccoci qui siamo alla prima schermata in cui ci dice che puoi invitare fino a 5 persone di almeno 14 anni perché di almeno 14 anni? perché sotto i 14 anni teoricamente non puoi avere un account google se non tramite una procedura che bisogna fare tramite appunto google family link questa cosa la andremo a vedere poi successivamente magari nel video dedicato al family link in questa schermata banalmente ci chiede di invitare quelle che sono i componenti della nostra famiglia quindi fino a massimo di 5 persone potete inserire o digitare gli account che potete invitare io per esempio aggiungerò questo qui anche se magari voi non lo vedete ma è semplicemente una prova inseriti tutti e 5 gli inviti da mandare premiamo invia ed ecco che il gruppo famiglia è già creato gli inviti sono stati mandati indipendentemente da se risponderanno in modo positivo oppure no il gruppo è già stato creato nel pulsante in basso possiamo invitare ulteriori persone o se no semplicemente premere ok andiamo a vedere che cosa è stato creato allora c'è questa nuova schermata che è una specie di home page all'inizio ci sono tutti gli account che partecipano al gruppo famiglia più in basso c'è cosa viene condiviso nel gruppo famiglia perché non è obbligatorio condividere tutto sotto c'è la parte del controllo genitori e per ultimo c'è l'eliminazione del gruppo famiglia andiamo a vedere cosa possiamo condividere e cosa viene condiviso di base nel gruppo famiglia allora di base il calendario viene creato un calendario famiglia di google non il calendario che avete già sul vostro account ma viene creato un calendario in famiglia in automatico viene condiviso anche google keep per le famiglie e sostanzialmente solamente questi due servizi di base sono attivi poi si può aggiungere il family link si può condividere il piano di youtube premium il piano youtube music si può usare l'app youtube tv ma credo che qui in italia non sia molto utilizzata o comunque non abbia la stessa funzione che ha negli altri paesi si può condividere lo spazio di google one si può condividere il google play pass che comprende un sacco di app e tanti giochi è una specie di season pass dello store di google si possono qui condividere appunto gli acquisti fatti sul google play store e anche l'utilizzo dell'assistente vocale di google c'è un appunto che devo farvi il fatto che è possibile condividere anche i metodi di pagamento nel gruppo famiglia quindi se invitate qualcuno che non è vostro parente io vi consiglio vivamente di utilizzare una carta prepagata detto questo torniamo indietro l'ultima cosa che possiamo fare se non vogliamo più il nostro gruppo famiglia è quello di eliminarlo premendo sull'ultimo tasto che troviamo in fondo della pagina una volta premuto ci chiederà oltre di inserire la password se vogliamo eliminare il gruppo famiglia premiamo su elimina in questo caso è solamente una prova quindi io lo eliminerò direttamente ed ecco fatto che il gruppo è eliminato è come se non fosse stato mai creato se avete domande sui gruppi famiglia o sulle loro applicazioni di utilizzo potete scrivermi nei commenti spero di esservi stato utile vi prego di lasciare un like e un'iscrizione se volete continuare a vedere o a seguire questa serie sui servizi google vi mando un saluto da soluzioni pc e alla prossima grazie a tutti